eccoci qui in un altro video ragazzi e siamo tornati su The Walking Dead allora ricapitoliamo tutto abbiamo trovato una barca ma non c'era benzina nella batteria e praticamente dobbiamo fare qualcosa ah ok ci fa vedere tutto quello che abbiamo fatto prima ok si si nel video scorso ok ragazzi qui eravamo dove ci eravamo fermati l'altra volta vediamo un po' cosa dobbiamo fare per andare avanti nel gioco allora una pistola una tizia con la mappa e una patata e un po' di servizio si potremmo parlare con te un minuto cosa cosa ho un altro guardardo è una 30 metri quindi quindi abbiamo un problema di capacità assicurando che tutti rende la vita non c'è room per tutti cosa stai dicendo hai una risposta pensavo che dovessi sapere come? who the hell is this? this is Bree, she can help us help with her i was a student at the school where Crawford keeps their supplies i know the layout with her help we're in and out faster anyone have a problem with that? i guess not and what are we waiting for? lets get moving Che si parte? Lei è professor d'aiuto, è vero, lei è piccola che incontrerà dappertutto. Ok, mica l'accetto. E forse qui succederà una cosa che non mi ricordo male. Ok, quindi... Ok, si sale. Allora, andiamo in posto. Sta a capire. E io che ho gravato. Qui sono? Qui sono? Onde sta? Deve essere guardi, patrulli. O che? Sei disapoiato? È proprio strano. È. Eh. Si mette la luce, eh? Me e Kenny prenderanno questo ragazzo. I miei segnali, i resti di noi seguiamoci. Tutti lo capiscono? Ok Kenny, facciamo questo tranquillamente. No shooting, se non c'è altro choice. Allora, spara. Ah no, la colitella è vero. Per me è un greco. Ma siamo in zombie! Siamo in zombie? Eh, infatti. Spara. Eh, ma cos'è attirato? Eh, guarda. Ho attirato altri zombie. Cazzo, fai una attenzione qui. Dentro, dentro! Non c'è un bruciatore. Oh, non c'è un bruciatore. Non c'è un bruciatore. Questo è. Ok. Dunque, si spaventano la parte del ripartista. Quindi, non c'è un bruciatore. Ok, sicuramente. Ok, ok. Ok, sicuramente. Ok, sicuramente. Ok, sicuramente. Ok, sicuramente. Per mio amore qualcuno qua. Ok, sicuramente. Ok, sicuramente. Allora. Ho chiuso il chiave. E sto pensando a cosa fare. Batteria. C'è un'idea di dove possiamo trovare una batteria? C'è un'auto. C'è un'acqua? 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 Todo il unico drawers? C'è un'acqua? C'è un'acqua qua? Allora. C'è un'acqua? C'è un'acqua? حدensi all calla! Qui Purple? and watch over our command center. I'm putting you in charge of it, ok? You're leaving me with Ben? I'm not leaving you with Ben. I'm leaving him with you, understand? Oh, ok. Ok, bella brava, eh? Attento, io guardo un po' in giro. Allora, qua cosa c'è? Un po' in giro. Non c'è ma un po' in giro. Ok, vediamo. Per il sample, una porta... Ehm, sarà un tappeto? Ehm, guarda, guarda. Ok. Un cenuto interessante. Quindi niente qua. Ok, niente, non funziona. Posso parlare con lui? Cosa mi serve? No, non funziona. È un po' in giro. Questa è un po' in giro. È un po' in giro di fare qualcosa di utile, sai? È un buon cambio di pace. È un po' in giro di più. Questa è un po' in giro. 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 Ok. Niente qua. Ok. Non ho tempo per previscer qualcosa. Non ho tempo per questo. Non lo capisci. Ma cosa dovrei fare quando si parla di Caccia e Ducca? Solo chiedere e piacere che non sia la mia responsabilità. Non lo faccio mai più. Ci arriva un momento quando si è pronto a ascoltarlo. Ma non è ancora ora. Non ancora. Ho sentito. Siamo tornando a questo. Ah, un impatto. Allora... Caccia... Eccolo su tablo. ... Si, un attimo. Si, un attimo. Eh. Si, ciao. Si! Ok, allora... Un attimo. Ed è un attimo. c'è altre cose, ma non mi interessa, aspetta, un po' meglio non mi interessa, sicuramente, allora usci in basso, usci andando alla stanza, e moriranno tantissimo, allora mettiamo un po', c'è dei cartelli, ma non mi interessa, uno sportello, un bagno, perché io avrei paura per afficcate, ma meno male, che culo, scusate, questo sportello aperto, queste porte qua, no? Non d'abbiamo Non d'abbiamo Non d'abbiamo Ma non No, non ma anche, infine, ora ci sia, dove fu? Mollie? 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 Sei qui? Penso che non ando in questo modo. Vediamo un po' dove ci porto su strada. Faccio qualcosa mi so. Interessante. Mollie? Mollie? Un'esperienza? Sei sicuro? Vado? Ma dove vai? Mollie? 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 Ehm... Molto? Non so cosa c'è. Potrei prendere... Non so cosa che dovrebbe andare a mi. Perchettere la chi! Non so di vicino. Ehm... Ehm? Ehm... Ehm... Perché questo? Questa che è... Oh, oh! Non si sta bene Non si sta bene Pullo l'idea in I thought I'm gonna put in the car Non c'è problema, guarda cosa ho trovato. Infatti, però che qui ho merda... C'è quello spazio. Eh, lo sapevo io. Mincula, mincula, mincula raga! Ok. Ok ragazzi, ci vediamo qui la prossima volta, lasciando tanti bei pollicioni in su. E ciao!